Quando spesso vado alle conferenze, in giro anche per l'Italia, molti dati non sono mai aggiornati al momento reale ma fanno vedere le previsioni che hanno calcolato sempre a due anni prima. Cioè vedere una slide che si ferma al 2015 quando siamo al 2019 non è che dà un'immagine reale di quello che è la situazione. Noi abbiamo realizzato una piattaforma di sviluppo per la domotica Fai da te che può essere utilizzata proprio nel mondo dell'IoT e della domotica anche industriale e quindi è importante sapere anche chi sono i competitors e le aziende a cui può essere interessante la nostra piattaforma di sviluppo per la domotica. Se ci fossero più dati reali sarebbero i primi a essere guardati. Internet è un grande mondo da cercare, da ricercare e spesso non ci sono dati attendibili su quello che è la situazione reale, attuale. Quindi se mettesse su internet dei dati reali penso che sarebbe visto da tutti.